Le attività sataniche non dureranno per sempre, le operazioni anticristo dei regni peccaminosi contro i santi di Dio non dureranno in eterno. Le operazioni anticristo dei regni peccaminosi contro i santi di Dio non dureranno in eterno. Dio porrà fine a queste attività e trascinerà i malvagi al fuoco dell'inferno. Perciò i santi di Dio celebreranno le loro vittorie e glorificheranno Dio. Le scritture dicono, poi una voce è venuta dal trono dicendo, «Lodate il nostro Dio, tutti voi i suoi servi e coloro che lo temono, piccoli e grandi!» E sentii, per così dire, la voce di una grande moltitudine, come il suono di molte acque e come il suono di potenti tuoni, che diceva, «Alleluia! Perché il Signore Dio onnipotente regna! Rallegriamoci e rallegriamoci e rendiamogli gloria! Perché è venuto il matrimonio dell'agnello e sua moglie e si è preparata!» Apocalisse 19, 5 a 7 Lezione, tutti i cristiani sono incoraggiati a sopportare qualsiasi persecuzione che possano incontrare, perché alla fine raccoglieranno i frutti di Dio. Gli attacchi di Satana contro i credenti possono essere duri e brutali, ma non dureranno per sempre. Presto svaniranno. Dio fermerà tutte le attività del nemico e getterà i malvagi nel fuoco dell'inferno. Perciò i figli di Dio devono essere felici e sperare che la loro gioia sia dietro l'angolo. Per rimanere saldi, dobbiamo pregare ogni giorno Dio e cedere alla guida del Suo Spirito Santo. Preghiera, caro Dio, fa anche il Tuo Spirito Santo tenga saldi i miei piedi in Te. Dammi la forza di resistere alle tentazioni e di trionfare in tutte le situazioni. Lascia che il Tuo Spirito Santo mi aiuti a vivere una vita conquistabile sulla terra per poter gioire con Te in cielo, perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.